Israele ha attaccato domenica diverse filiali del braccio finanziario di Hezbollah a Beirut e nel resto del Libano. Centinaia di persone sono fuggite dalle proprie case. Testimoni hanno raccontato di una decina di boati e di panico per le strade della capitale. Prima dei bombardamenti l'esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione per la popolazione civile in 24 aree, di cui 14 a Beirut. Washington, struttura di attraversi di mani in virtù di l'esercito di ammettere sui attraversi della distanza in generale. Per i giorni in attraversi la città di Iran è la città della strade della guerra nazistica per le strade di nab surf. Ci sono stati attraversi delle attraversi in generale in generale l'esercito di attraversi nella corretta di mani in generale. L'obiettivo degli attacchi era al Qard al-Assan, un istituto finanziario ritenuto la banca di Hezbollah dall'intelligenza israeliana, ma anche da Stati Uniti e Arabia Saudita che l'hanno messo sotto sanzioni. La banca fondata nel 1983 ha una trentina di filiali ed è usata da centinaia di migliaia di libanesi. L'istituto ha subito rassicurato i correntisti sui loro fondi. L'Israele ha attaccato anche obiettivi militari legati ai miliziani libanesi a Beirut, dove è stato colpito un deposito di armi a Nabatie nel sud e nella valle della Beka, nell'est del paese. Sono morti alcuni membri di Hezbollah che ha risposto lanciando più di 170 razzi contro Israele domenica, secondo le autorità militari israeliane. Tre persone sono rimaste leggermente ferite nel nord.